Amo, ciao, allora senti, ho sentito Franci e la festa di questa sera è saltata Ah che top, ti prego davvero Sei felice? Sì Ok Però gli altri in realtà uscirebbero comunque Quindi Chi c'è? Allora Michele, quello riccio No no mi sa stra-antipatico Ma avete mai parlato? No Ah E poi vabbè Dani, Cla No no Dani, con Dani no Cosa ha fatto? Non ti ricordi? Ma ha fatto fare una figura davanti a tutti, alle medie Alle medie? Sì Andiamo in quel locale dove siamo andati in centro l'ultima volta È orribile, è bruttissimo Il cameriere è stra-antipatico Non vi siete neanche parlati Eh quindi? Non sopporti nessuno Ma non è vero C'è qualcuno che ti sta simpatico? Sì Tu? Yeah, l'unica, io, la prescelta Che fortuna Semplicemente sono selettiva No amo, non sei selettiva Sei una scassa palla Amo, ci passa a prendere Cla Ti prego, metti con le canzoni in macchina che veramente...